la fine ma la fine ci sbregano 2 lettere 2 h no e mi sta sputando cosa fai c'è leone non capisco labiale fontana vuoi una fonta non ce l'abbiamo cosa vuoi che scala è parlando faccia questo cosa vuoi in foresta ti scappa la pipì e va a fare la pipì copro io copro io fare la pipì e se gli va leone o rinoceronte li tiro una sciopedata proiettilo becco qua e lo becco secco finisci la pesciata veloce vieni qua vieni qua che dobbiamo andare in cerca del leone cosa c'è? cosa? 2 lettere 2 parole il gioco di mimi cosa c'è? hai fatto la pipì ho capito no 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 cosa? la la pissega ti ha morsicato un serpente un serpente ti ha morsicato benissimo il centro della foresta va molto bene ho capito ti ha morsicato un serpente che cosa succede? che devo fare? chiamo un dottore chiamo un dottore chiamo un dottore siamo nella foresta chiamo un dottore chiamo un dottore cosa è successo? cosa è successo? cosa è successo? il mio amico è stato morsicato la da un serpente da un serpente si allora lei deve succhiare 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 sputare spera perché sputa sputa ripenissime soli le Che cosa ha detto il dottore? Il dottore ha detto che devi morire.